Poco prima della mezzanotte, una 64enne ha perso la vita a causa di un assurdo incidente domestico. È accaduto in provincia di Lecce, a Sanarica. La donna era sola in casa e stava dormendo sul divano del suo soggiorno, quando sono divampate le fiamme, che per motivi ancora da accertare, le sono state fatali. Il fuoco ha avvolto la casa con rapidità, causando il decesso della donna. A trovare il corpo carbonizzato, suo marito, rientrato in casa dopo la mezzanotte. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie stanno indagando sulle cause che avrebbero generato il rogo. Le ipotesi più accreditate sono quelle di cortocircuito o di una distrazione, forse una sigaretta accesa. Il decesso sarebbe stato causato dalle esalazioni nocive e inalate, come potrebbe garantire l'autopsia disposta dal magistrato di turno.